buonasera 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 e bentrovati alla puntata numero 36 del nostro giro del mondo a bordo di un cirrus sr 22 come vedete siamo in mezzo a una giornata veramente pessima per volare e quindi dobbiamo contravvenere alla nostra regola che ci impone di volare a vista quando possibile e volare in strumentale tuttavia tuttavia non sarà completamente un volo strumentale perché ho deciso come aeroporto di destinazione sperando che diciamo il tempo ci consenta di atterrare dove voglio atterrare dicevo scelto come aeroporto destinazione un aeroporto che è privo di qualunque ausilio alla navigazione è un aeroporto veramente strano vi dico immediatamente come si chiama si chiama butter valley quindi la valle di burro che si trova un poco a nord di philadelphia quindi arriviamo veramente molto vicino a new york questa sera e ma alla particolarità questo aeroporto solo cercate su google vedrete che che è veramente strano e l'aeroporto sorge in mezzo a un campo da golf ma proprio letteralmente tra le buche del campo da questo campo da golf il campo da golf di butter valley che è un campo a 18 buche ha in mezzo al campo questa pista da atterraggio veramente veramente strana quindi l'ho scelto perché uno degli aeroporti più suggestivi della pennsylvania e mi piaceva diciamo arrivare in un luogo che non fosse un aeroporto internazionale come quello di philadelphia o addirittura sconfinare andare al jfk così che poi lo possiamo usare come campo base per poterci spostare su new york philadelphia e poi puntare verso washington dc insomma vedete ho già saltato tutti i convenevoli della messa in moto perché ho avuto un sacco di problemi nel far partire il simulatore questa sera a causa del consueto bug del tempo atmosferico che non funziona quindi al terzo caricamento finalmente abbiamo il tempo giusto che è questo fa veramente schifo il tempo a charleston jager l'aeroporto quello che finisce su una scarpata quindi speriamo di decollare nella maniera corretta e niente ho impostato praticamente tutto devo dare un attimo una regolazione qui alle luci di partenza accenderei anche quelli di atterraggio visto il tempo il tubo di pitot e anche il dispositivo antighiaccio anche se in questo momento ci sono 16 gradi curioso veramente molto curioso il tempo in questo momento 16 gradi quindi fa caldo ma diluvia e va bene quindi direi che possiamo toglierlo per il momento il dispositivo antighiaccio michela ricca è tutto a posto ho impostato il piano di volo quindi andiamo a chiedere l'autorizzazione per il piano di volo sempre se funziona o gesù charleston torre ok si è buggato il sistema di questa mia nuova questa mia nuova vabbè decolliamo vediamo che succede poi eventualmente carichiamo il piano di volo in in corsa dunque tengo anche aperta la chat e saluto nel frattempo anche davide buonasera e insomma speriamo bene io ci provo e vabbè via non mi piace il modo in cui il nostro aereo sta sta traballando abbiamo un po di vento proveniente da sud infatti ci sballotta verso la sinistra della pista vedete ok 70 nodi e si sale e si sale perfetto andiamo a vederci anche qui effettivamente com'è la scarpata sul fondo di questa pista dovrebbe essere abbastanza ripida soprattutto sulla sinistra infatti si vede questa è la scarpata di cui parlavo che scende e poi subito dopo vedete l'aeroporto praticamente finisce qui su questo pendio a scendere è un aeroporto abbastanza complicato quello di Jäger come vedete non l'ho trovato particolarmente complesso rispetto ad altri che abbiamo affrontato in passato però era curioso il fatto proprio che arrivasse qui su questa scarpata sono stato contento di averlo scelto seguendo anche un po' i consigli degli aviatori ok ci portiamo rapidamente sui 2500 piedi in mezzo a questa brutta turbolenza come vedete stiamo perdendo il contatto con il terreno ma era previsto siamo in IFR proviamo a caricare il piano di volo no proprio non vuole non vuole aiutarci in questo momento vediamo se ok rimettiamoci più a sinistra a questo punto cercherò di restare a questo punto sui 3000 andiamo a togliere il a togliere il i flap una volta che la configurazione è pulita gli lascerei i 3000 piedi di altitudine e andrei a procedere con la navigazione no ma di nuovo il perfetto adesso chiediamo immediatamente l'autorizzazione per l'IFR buonasera Muscal incamiciato perché arrivo da un bellissimo ristorante quindi mi sono vestito per non per darmi un tono visto che era un ristorante veramente molto bello buonasera coludo allora andiamo a chiedere immediatamente l'autorizzazione IFR devo confermare lo squawk perfetto ci ha dato gli 11000 piedi è abbastanza ok ok non so che cosa sta succedendo qua perché dovrebbe in realtà il il sistema dovrebbe automaticamente farci fare una virata verso si ho ricevuto ah è qui allora Hotel Victor Quebec è qui però sul piano di volo viene segnalato in maniera sbagliata sul conferma passaggio a questo punto passiamo le comunicazioni al copilota e ci occupiamo di salire a 11000 come c'è stato richiesto 11000 piedi vertical speed up andiamo a salire tiriamo un pochettino su il nostro la nostra elica teniamo d'occhio la temperatura e godiamoci il tempo nel quale stiamo volando questa sera veramente terrificante ma fra un po' dovremo sbucare al di sopra le nuvole perché credo che la base nuvolosa in questo in questa parte della Virginia occidentale dovrebbe essere 8000 piedi quindi sopra gli 8000 dovremmo bucare e uscire al sole vediamo un po' un po' di traffico oggi qui brutto 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 tempo però io adoro comunque queste queste viste vabbè insomma vediamo il lato positivo restiamo nel brutto tempo ma risparmiamo un sacco di tempo di strada perdon per la ripetizione di aria se vogliamo per avvicinarci a New York quindi posso confermare che il prossimo episodio sarà indubbiamente un episodio che ambienteremo in quel di New York e volevo fare un tour di New York città quindi volare in mezzo ai palazzi e spostarsi poi verso verso sud o addirittura verso Long Island vediamo e certamente faremo passeremo da Philadelphia certamente passeremo da da Washington DC quindi questa è un po' l'idea l'idea del delle prossime puntate mamma mia avete visto mamma mia ragazzi l'aereo che prende delle scodate pazzesche il vento qui le raffiche sono veramente forti guardate 41 nodi di vento siamo in mezzo praticamente a una tempesta 41 nodi di vento in coda in questo momento infatti ci sta spingendo a ben 181 nodi di ground speed veramente importante il vento in questo momento 181 nodi 185 nodi in questo momento 186 stiamo prendendo una turbolenza fortissima eppure su windy non mi dava tutto questo vento andiamo a dare un'occhiata vediamo un po' com'è com'è il vento in questo momento allora in questo momento a livello di vento nei pressi di di charleston dove ci troviamo adesso mi dà 11 nodi quindi probabilmente c'è un vento in quota abbastanza notevole vediamo se riesco a a dare ad aprire anche il il vento in quota in questo momento non ci riesco però comunque stiamo stiamo incontrando una perturbazione davvero molto forte abbiamo superato i 6.000 piedi in questo momento sto cercando di aprire di aprire anche il ecco vediamo un po' allora ah si 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 confermo confermo assolutamente praticamente da 3.000 piedi fino a 8.000 piedi addirittura sopra gli 8.000 piedi in quest'area abbiamo del il vento a 58 nodi ci troviamo praticamente in mezzo a una tempesta e speriamo di venirne fuori perché veramente diventa molto 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 importante è proprio il punto peggiore del in questo momento degli Stati Uniti proprio il punto dove c'è più vento in quota in questo momento in tutti gli Stati in tutti gli Stati Uniti proprio in tutti gli Stati Uniti è il punto dove ci troviamo adesso ci abbiamo avuto culo questa sera proprio a beccare una serata del genere vabbè speriamo di uscirne ciao Dubro nel frattempo buonasera sì sì per l'amor del cielo risparmieremo benzina ma non è il massimo avere avere tutto questo vento in coda cioè veramente al momento segna 44 nodi ma dovrebbero salire ulteriormente sopra gli 8000 sopra gli 8000 stando a quanto indica Windy in questo momento livello di volo 100 abbiamo 55 nodi quindi dovremmo vedere questo valore qui salire fino a 55 nodi è piuttosto piuttosto importante teoricamente tra 500 piedi dovremmo anche bucare le nubi se ci ho visto giusto allora vediamo un po' base nuvolosa no non è vero la base nuvolosa è a 3600 metri in questo momento che tradotto in piedi sono 3x3 9 6x3 sono più o meno 11000 11000 piedi dovremmo dovremmo comunque bucarle lo stesso perché ma dato come altitudine il controllo traffico era proprio 11000 quindi in teoria tra poco dovremmo bucare vediamo nel frattempo comunque andiamo anche a regolare la pressione barometrica che per ora resta sempre costante in questo momento 29.87 con una pressione veramente molto alta il che dimostra anche il fatto che abbiamo temperature elevate in questo momento andiamo anche a dare un'occhiata proprio alle temperature e effettivamente effettivamente abbiamo lo zero termico molto molto elevato lo zero termico sta praticamente quasi a 4000 metri mentre a terra come voleva si dimostrare abbiamo temperature piuttosto calde per essere 18 gradi quindi il meteo in questo momento è correttissimo andiamo visto che stiamo rapidamente scendendo sotto lo zero anche se è più alto ad accendere per sicurezza il nostro il nostro dispositivo antighiacciamento nella speranza di non avere ghiaccio sulle nubi l'umidità è importante in questo in questo momento però 9000 piedi si continua a salire eh sì sai che ho detto purtroppo oggi veramente la giornata è a dir poco uggiosa per usare un eufemismo stiamo volando in mezzo al grigio devo capire come mai mi marca mi lo vedete che mi crea un bordo azzurro intorno all'aereo non capisco come mai però vabbè andiamo a accendere anche un po' riscaldamento qua che ok accendiamo anche un po' le luci interne ok e vabbè niente qua continuiamo a volare andiamo a vederci anche in realtà il meteo dovrebbe migliorare più avanti diamo un'occhiata immediatamente al al display meteo vediamo che cosa dice vedete che intorno alle 200 miglia dovremmo ottenere un tempo atmosferico migliore vediamo anche a livello verticale che cosa dice non cambia nulla abbiamo sempre questa brutta perturbazione che però vedete tende ad alzarsi tende ad alzarsi va bene 42 nodi in realtà qui non sto cercando di capire se c'è la possibilità di è strano perché la base nuvolosa qui mi dà 11.000 però stando a effettivamente stando a quello che vediamo qui di fronte non c'è nessuna speranza che stiamo beccando talmente tanto vento in coda che il mio aereo stalla vediamo se togliendo un po' di di miscela riusciamo a si dovevo proprio regolare la miscela stavamo perdendo un po' di potenza ok recuperiamo rapidamente 160 nodi ragazzi 160 nodi di ground speed e sempre 41 nodi di vento in coda mamma mia notevole vorrei anche vedere magari andiamo a vedere con il drone giusto per per farci un'idea allora prendiamo il drone aumentiamo la velocità del drone e vediamo che cosa c'è cioè quanto ci vuole per uscire dalle nuvole troppo direi ecco diciamo che l'idea di superare la base nuvolosa agli 11.000 mi sembra alquanto improbabile perché questo è il drone e praticamente per arrivare sopra la base nuvolosa credo che siamo saliti di almeno altri 10.000 piedi il nostro aereo non potrebbe mai reggere una cosa del genere quindi insomma guardate guardate com'è terrificante il tempo in questo momento questo è l'area nella quale ci troviamo in questo momento è assolutamente una follia non non c'è speranza e niente voleremo in mezzo alla perturbazione insomma allora caro ti rubo i centesimi ti spiego ti spiego dove stiamo andando è abbastanza curiosa la destinazione di oggi allora oggi stiamo andando verso un aeroporto che si chiama Butter Valley quindi la valle di burro che è un aeroporto che ha la particolarità di sorgere in mezzo a un campo da golf se ve lo guardate su google maps è assurdo è veramente assurdo è una pista in mezzo alle buche da golf ed è veramente un campo di atterraggio stranissimo che ho scelto come destinazione sperando chiaramente di trovare un tempo un pochettino più accettabile in arrivo secondo quello che dice che dice Fire Simulator è probabile perdono quello che dice Windy è probabile che troveremo una visibilità molto molto migliore tra circa una mezz'ora però se riusciamo ad arrivare lì l'avvicinamento è veramente curioso perché si atterra proprio in mezzo alle buche del campo da golf poi speriamo che sia stato rappresentato nella maniera corretta da da Flight Simulator allora sto guardando no purtroppo purtroppo il tempo andrà a migliorare veramente più avanti perché per il momento ci troveremo sempre all'interno di questa di questa perturbazione circa fino a Weston ora non so esattamente dove ci troviamo però lo potete vedere usando il plug-in che trovate premendo l'icona a forma di aereo quindi praticamente nei pressi di Weston che vediamo dove si trova un pochettino più a nord ecco stando a quanto dice a quanto dice Windy proprio nei pressi di Weston che è il punto dove passeremo poco più avanti dovremmo trovare circa qui esatto una situazione leggermente migliore quanto meno a livello di perturbazione cioè al momento abbiamo delle allerte meteo che dovrebbero rientrare tra circa potremmo dire un 5 minuti di volo 10 al massimo quindi insomma speriamo bene che ne pensi è una figata la pista Davide è una figata la pista dove stiamo andando allora dubro il piano ce l'ha mascal vediamo un po' mascal riesci poi a rimettermi perché non ce l'ho qui forse però riesco a recuperarlo one sec mi sa che l'ho chiuso allora no mi sa che l'ho chiuso però mascal c'ha la eh grazie grazie mascal buonasera Mirko sì questa sera è allucinante il tempo infatti siamo in IFR non possiamo fare altrimenti eh ci tocca ci tocca restare qui e sperare di 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 vedere il tempo migliorare perché qui come vedete la situazione è abbastanza drammatica però più avanti il tempo come vedete superata questa perturbazione questo viola qui va a migliorare poi addirittura andiamo sul su perturbazioni sempre più leggere eh speriamo di avere una situazione decisamente migliore nel frattempo vedo che sta spaventosamente calando la velocità ma non capisco per quale ragione forse è aumentato ancora il vento no è diminuito addirittura il vento va bene andiamo a cambiare serbatoio che in fase di salita abbiamo consumato parecchio abbiamo sempre questo problema del del fatto che con tanto vento in coda è difficile quasi farlo volare questo aereo infatti becca un sacco di turbolenze lo vedete come viene sballottato credo che sia anche cambiata la pressione nel frattempo più o meno non di molto però 167 nodi si viaggia veramente veramente rapidi rapidi infatti se vado a vedere a questa velocità il tempo di percorrenza dovremmo cavarcela in vediamo subito dovremmo cavarcela in poco più di un'ora di volo in realtà sono 450 km vediamo in miglia 360 miglia no in realtà non è vero ci dovremmo impiegare più di due ore perché sì sono sono un paio di ore di volo sì andando a aumentando anche la sì perché con partenza alle 21 22 sì sono un paio di ore di volo oh stiamo stallando ma è possibile siamo a 113 nodi non può stallare forse una raffica di vento ha fatto entrare il il segnalatore dello stallo perché non stiamo assolutamente stallando abbiamo una velocità al suolo di 170 nodi impossibile ok 037 al punto tomca infatti siamo già passati su washington center significa che praticamente siamo ancora in west virginia in pieno però a breve noi sconfineremo cioè a breve tra più o meno una mezz'ora dovremo sconfinare e toccare per pochissimo il maryland e quindi entrare in pennsylvania 170 nodi un pochettino va a calare perché il vento sta cambiando c'è un po' di raffiche sto proprio guardando le alerte meteo che vengono segnalate ma abbastanza è abbastanza fastidioso qui il sì livello di volo 100 che sta segnando avremo praticamente per tutto il viaggio avremo vento in coda e non è male questa cosa abbiamo dei punti in cui il vento in coda è veramente importante perché qui dove ci troviamo in questo momento quindi poco a sud di di weston abbiamo un vento in coda tutto sommato tutto sommato accettabile però mano a mano che ci spostiamo vedo che addirittura segnalano 56 54 57 nodi è incredibile adesso ce ne sono 37 qui però vabbè nel frattempo ringrazio mascal che ha pubblicato il il giro del mondo quindi aggiornandolo con la tappa di oggi vedete la tappa di oggi che ci porta è quella segnata io che vedo io segnata in rosso in questo momento e che ci porta proprio a sud di allentown dopodiché appunto ha corretto la parte su new york baltimore a washington quindi quello sarà la prossima tappa sarà proprio un tour vediamo un po' come come organizzarlo se andare in delaware a salutare il presidente dopodiché appunto si punta verso sud charlotte atlanta si è tutto corretto andremo a fare un giretto a new orleans stalassi orlando miami e questo è quello che ci aspetta nelle prossime puntate speriamo di riuscire ad arrivare in florida entro direi vorrei arrivare diciamo a visitare la florida per pasqua dopodiché entro maggio non oltre maggio vorrei già essere a cuba salutare gli stati uniti che rivedremo probabilmente tra un anno quando ritorneremo dal nostro viaggio in sud america un po' come gli eroi che facevano i loro viaggi in sud america come giuseppe garibaldi c'è ghevara e di battista allora com'è possibile che stai chattando con mia moglie Sala adesso spiegami un po' mia moglie è di là sul televideo c'è un'intervista a un discendente di garibaldi sul televideo ma dove l'hai riesumato il televideo ah si di series S l'abbiamo presa mio suocero oggi gliel'abbiamo installata in casa era molto contento però non lui arriva da anni di nintendo wii quindi aveva un po' di difficoltà con lo stick destro e deve un po' farci l'abitudine televideo pagina 160 adesso vado a vedere se mi prendi per il culo allora cacchio hai ragione a tu per tu col pronipote di garibaldi quali sono i ricordi dei racconti di sua madre l'avvocato cassazionista donna teresita garibaldi aveva in sé l'essere garibaldina faceva i suoi principi fondamentali che sono parte della mia esistenza rispetto del prossimo amore per gli animali trasparenza e volere fortemente il bene comune così Walter Garibaldi artista e agente di spettacolo pronipote dell'eroe risorgimentale giuseppe garibaldi la sua spedizione dei mille supportare il talento attraverso le tante forme per quale motivo uno deve andare a intervistare il pronipote di garibaldi perché nel senso non è che l'ha conosciuto garibaldi quindi sti grandissimi cazzi scusate questo vabbè eh mascal in tibet sarà divertente sarà divertente quando arriveremo quando arriveremo da quelle parti dove non ci sono gli aeroporti comunque c'è una cosa mi stavo dimenticando mascal di eh un secondo adesso vado allora allora dunque vediamo se se trovo il esatto allora ti volevo dire mascal c'è sicuramente una una correzione da fare un secondo eh allora praticamente ehm prima di puntare su charlotte questa è una correzione che ti aggiungo prima di puntare su charlotte dobbiamo dobbiamo necessariamente fare un salto eh su ehm Kilo Foxtrot Foxtrot Alpha che è l'aeroporto dei fratelli Wright perché mi sembra assurdo non andare ad omaggiare il luogo dove si è svolto il primo volo della storia dell'aviazione eh quindi atterreremo all'aeroporto dei fratelli Wright quindi il first flight airport che si trova a Kill Devil Hills eh North Carolina quindi ci passiamo di sicuro questo è una delle tappe che che faremo bene bene niente qua proprio la la situation è terrificante volevo scendere a terra a questo punto col drone diamo un'occhiata e vediamo pardon vediamo che cosa succede a terra allora guardate come viene sballottato l'aereo velocità del drone massima giusto per capire mamma mia ragazzi questo è in questo momento la base nuvolosa che abbiamo qui in in quest'area assolutamente impossibile atterrare in questa in questa zona proprio terrificante vediamo se corrisponde anche a quanto indicato su Windy su Windy si dice che la base nuvolosa in quest'area dovrebbe essere dovrebbe essere sui 6700 piedi quindi in realtà in realtà non è molto corretto vediamo se riusciamo ad atterrarci se no punteremo cioè ripiegheremo su qualche aeroporto differente terrificante comunque terrificante si no meno male che stiamo che stiamo volando che stiamo volando in in IFR non in VFR perché se no qui in quest'area ci saremo schiantati al 100% contro una qualche collina la cosa che mi preoccupa Dubro è Lukla che è un aeroporto che mi piace moltissimo perché è veramente strano e non so se riusciremo ad arrivarci perché è veramente molto in alto e onestamente non so se riusciremo ad avere abbastanza motore per arrivare fino a Lukla non so che altitudine è Lukla ha un'altitudine no in realtà sono 2846 metri quindi potremmo farcela ma è molto bello come avvicinamento in mezzo alle montagne singolare mi piace persino di più di Charmoney come come avvicinamento Muscal raccontami pure dello spianamento degli appalaci cosa hanno fatto per spianare gli appalaci è una di quelle cose che non so assolutamente che dobbiamo fare dobbiamo fare dobbiamo solo aspettare sarà un volo palloso questo perché senza navigazione cioè stiamo qua attendiamo quel genere di volo che probabilmente nella realtà il pilota sano di mente non avrebbe affrontato perché volare così in mezzo alle nuvole con un aero di questo tipo allora vediamo che cosa dice le major del carbone ah quindi hanno hanno spianato le montagne per estrarre il carbone quindi non è una roba che l'hanno spianato tanto per spianare come avvenuto per esempio da queste parti non so se conoscete la storia di Consonno in provincia di credo sia in provincia di Lecco e Consonno hanno spianato una collina per permettere a alla gente del che avrebbe dovuto visitare Consonno che era una sorta di chiamiamolo Disneyland costruito in provincia di di Lecco e di vedere il lago perché il lago era coperto da una collina e il milionario pazzo miliardario anzi all'epoca pazzo che ha costruito Consonno si dice abbia deciso di prendere la collina e spianarla per permettere di vedere il lago e se è andata Consonno fa veramente è veramente un posto assurdo no allora stavo stavo vedendo appunto le grandi compagnie carbonifere usano una devastante procedura di spianamento delle montagne con esplosivi per portare letteralmente la luce fino a di minerale cioè di carbone le cime delle montagne vengono tagliate via delle esplosioni e i detriti gettati nelle valli creano dighe piene di sostanze tossiche che deviano i corsi d'acqua e inquinano le falde boschi meravigliosi sono completamente distrutti questa pratica oltre a modificare radicalmente e irrimediabilmente la catena montuosa più antica del continente è strettamente legata all'alto numero di tumori e altre malattie nella comunità della zona nonostante ciò il carbone è spesso considerato dagli abitanti del luogo l'unica risorsa che assicura un lavoro in quella che è fra le regioni più depresse degli Stati Uniti è vero la Virginia occidentale è molto molto depressa come da un punto di vista economico questa condizione dà buon autorità degli Stati eh sì ma peraltro adesso non vorrei dire una cretinata sta diluviando nel frattempo ma sta diluviando forte allora in Pennsylvania esattamente questo me lo ricordo in Pennsylvania esiste un luogo che è uno dei luoghi più spettrali e assurdi che potete trovare negli Stati Uniti esiste questa città che si chiama Sentralia scritto Centralia che è una città che è nata sopra a una enorme miniera di carbone ed è proprio nata come come città di persone che estraevano il carbone finché a un certo punto non si sa come la miniera di carbone si è incendiata e poiché il carbone brucia anche in condizioni di scarso ossigeno il fuoco ha cominciato a bruciare vi dico quando per la precisione ha iniziato a bruciare il 27 maggio del tenetevi forte 1962 sono passati 60 anni 70 no 60 anni perdon 6-6-12 quindi dicevo sono passati 60 anni 59 e il il fuoco sta ancora bruciando la città è tuttora in fiamme dopo 59 anni è una cosa veramente assurda si è la Chernobyl degli Stati Uniti dici bene Mascal è allucinante se vi vedete su google maps la città a parte che è una città fantasma ma vedete proprio le fiamme cioè il fuoco il fumo uscire dal terreno tutta l'area è incendiata secondo le stime il fuoco potrebbe andare avanti per centinaia di anni perché la vena di carbone è talmente grande che per esaurirla tutta probabilmente ci vorranno decine forse centinaia di anni quindi un fuoco che non si spegnerà mai è allucinante ovviamente il luogo è diventato inabitabile c'è ancora gente che ci abita nei paraggi ma è molto molto difficile vivere lì perché è super inquinato e anche guardatevi i video su youtube vedete le cose assurde di quel posto forse uno dei luoghi più spaventosi che potete trovare negli Stati Uniti la causa originale è ancora oggetto di dibattito c'è scritto per quanto riguarda hanno cercato di spegnerla ma non ci sono riusciti qualche caso è rimasta insomma è abbastanza spettrale ok come vedete anche qui dal nostro dal nostro gps stiamo per superare la parte più alta diciamo della della catena degli appalaci nello specifico in questo momento do un'occhiata alla cartina siamo nei pressi di un posto chiamato Petersburg 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 vediamo dov'è Petersburg West Virginia abbastanza sfigato come posto ok sì e nei pressi di Petersburg eccoci qui andiamo a trovare sempre tempo brutto tempo molto brutto vento che sempre 40 nodi addirittura dovrebbe dare se passiamo a sud di Petersburg dovrebbe persino peggiorare il tempo perché se ci passiamo a sud avremo addirittura un 55 57 nodi mentre a nord siamo sui 36 38 teniamo d'occhio nel frattempo i consumi che per il momento sono buoni normali 10 galloni all'ora muscal ma si ci vorrebbe ci vorrebbe un caffè ma in realtà guarda che stiamo per per sconfinare a brevissimo entreremo in Maryland per pochissimo in realtà in Maryland proprio lo lo sfioriamo credo dalle parti di Hagerstown dovremmo dovremmo passare e niente e niente ancora tempo ma speriamo bene ragazzi perché qua la situazione è veramente veramente bruttissima a livello anche di nuvole sto guardando dovremmo avere una copertura nuvolosa decisamente migliore allucinante veramente vedremo se riusciamo a terra lì se no ci spostiamo divergiamo su qualche aeroporto nei dintorni che abbia possibilmente un atterraggio strumentale andiamo a cercarlo sentite come mano a mano che ci avviciniamo alla alla costa est già stando qui sul collegati sul Washington Center praticamente è un continuo parlare della radio rispetto alle aree un pochettino più prive di traffico aereo che abbiamo incontrato nelle precedenti puntate qui stiamo veramente arrivando in punti dove il traffico aereo è molto intenso e si ripercuote chiaramente nelle comunicazioni radio che sono sostanzialmente costanti è sempre se ci riusciamo ad atterrare Muscal è quello il problema comunque mi hai dato anche tu l'idea di fare un caffè o qualcosa del genere mamma mia che cacchio di di raffiche di vento ci sono qua penso che se ci fosse qualcuno a bordo probabilmente l'aereo sarebbe pieno di vomito perché è una cosa veramente terrificante in questo momento comunque l'altro giorno stavo guardando un video del Cirrus SR22 andate a cercarlo c'è un video in cui qualcuno tira questa leva e praticamente fa partire il paracadute di emergenza e vedete il Cirrus che riesce ad arrivare al suolo col paracadute di emergenza in seguito a una piantata motore è un aereo veramente molto sicuro il Cirrus ha avuto pochissimi incidenti e in quel caso appunto in cui ha avuto incidenti molto gravi il paracadute ha salvato la vita alle persone quindi veramente se fossi milionario probabilmente un aereo così non mi dispiacerebbe affatto se avessi tanti 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 soldi intanto diamo un'occhiata anche vedete il piano di volo qui prevede questo lunghissimo questa lunghissima tratta sono 243 milia nautiche che è quella che stiamo facendo adesso in questo momento dopo di che arrivati sul punto Mike X-Ray Echo appena 29 miglia per arrivare all'aeroporto il quale non ha nessun tipo di carta di atterraggio e infatti sarà molto difficile vediamo se trovo qualcosa magari su skyvector mi sa che non c'è nulla c'è semplicemente indicata la la mappa la mappa vfr la pista come vi dicevo è allucinante ve la faccio vedere la pista veramente è allucinante questo è proprio come dicevo la pista all'interno del del campo da golf veramente molto curioso e anche qui lo si può vedere è un una pista che purtroppo non non ha una cartina però speriamo di riuscire a intercettarla vabbè niente torniamo torniamo al gioco stavo vedendo se ci sono se c'è qualche chart ma non c'è proprio nulla ma in realtà una chart l'avrei trovata anche vediamo un po' se riesco ad aprirla no c'è solo un diagramma dell'aeroporto ma non c'è indicato nulla relativamente cioè non ci sono informazioni vediamo un po' no un aeroporto veramente piccolo fa 3000 operazioni all'anno addirittura però c'è qualcuno che ha un multimotore sto guardando è base per 15 aerei più un multimotore quindi cacchio gli americani sono ricchi sono veramente ricchi a quanto viene via un cirrus allora se non sbaglio viene via sui 700.000 adesso te lo dico allora no 800 sì più o meno 700.000 euro sì 850.000 dollari quindi sarà 750.000 euro via una roba del genere sì giusto giusto mascal lo puoi lo puoi scambiare con le rtx se vuoi se hai una decina di di schede di schede grafiche puoi assolutamente scambiarlo stiamo quasi per sconfinare ragazzi pochi minuti sconfiniamo niente situazione tristissima questa veramente guardate quanti quanti aerei che si vedono lampeggiare nei dintorni vabbè ragazzi io mi prendo un minuto di pausa vado a prendere da bere a questo punto ci vediamo tra un minutino quindi insomma super spot per noi arrivo immediatamente un minuto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccomi qua di ritorno e pronti a ripartire. Eh sì, mi spiace, mi spiace ragazzi che il tempo fa cagare oggi, non ci posso fare nulla. Ah, portiamo pazienza. La giornata è così e a questo punto sono anche poco fiducioso che troveremo un tempo accettabile. Adesso vado anche tra qualche istante a vedere con il drone che cosa mi dice il tempo a terra. Allora, per ingannare il tempo ti volevo chiedere se è una serie Comfort, una di quelle che ti guardi ogni sera, non importa quanto sia stata orribile la giornata, ti tira sul morale. Io sono un grandissimo appassionato di serie animate. Guardo tantissime serie animate, soprattutto americane. Quindi, lo dico, io chiudo tutte le mie giornate guardando almeno una puntata, anche se le avrò viste cento volte, tutte le sere guardo una puntata di Teen Titans Go. Che è stupidissimo, però mi fa veramente ridere. È uno di quei miei guilty pleasure. Adoro come lo hanno infarcito di citazioni pop barra nerd. Mi faccio delle grandissime risate. Infatti ho qui anche un Robin di Teen Titans Go. Uscito da un ovo di pascolo, me lo sono tenuto, perché è molto carino. Quindi, insomma, questa è la serie che guardo tutte le sere. Dopodiché come serie, sempre, chiaramente, sempre serie animate che guardo e che, diciamo, mi divertono molto e mi rilassano e mi fanno ridere. Guardo tantissimo South Park, guardo tantissimo Futurama, guardo tantissimo Rick e Morty, chiaramente, quello non può mancare. Però, chiaramente, anche lì sono sempre le stesse puntate. Anche Paradise Police, guardo, cioè per questo, che è una delle cose più volgari e schifose che ci sono su Netflix. Ma sono, anche quello lo considero un guilty pleasure, mi piace abbastanza, mi faccio delle grandi risate. Swift Rage 10.000 Allegria Futurama meglio di Simpsons, sì, sono abbastanza d'accordo, Sal. Nel complesso, nel complesso sono d'accordo con te. Cioè, quello che Futurama ha fatto in quelle poche stagioni, che credo ne abbia fatte sette, è molto significativo. Se ti posso dire, cioè molto più significativo della somma totale di quello che i Simpsons hanno fatto in 30 stagioni, in 31 stagioni. Ti posso anche dire che i Simpsons sono stati la serie che ha cambiato per sempre il mondo delle serie animate americane. E quindi, il valore che hanno i Simpsons e che avranno per sempre i Simpsons è una cosa che non li può portare via nessuno. A prescindere dal fatto che dopo la, diciamo, undicesima, dodicesima stagione, i Simpsons siano letteralmente colati a picco e non si siano praticamente mai risollevati. Però, però, va riconosciuto che quello che Groening ha fatto con i Simpsons fino all'undicesima, dodicesima stagione, ci sono alcune stagioni che secondo me sono straordinarie e dalle quali è derivata una memetica, diciamo, che porta la firma dei Simpsons. Cioè, l'altro giorno guardavo, proprio con mia moglie, l'ottava stagione di Simpsons, dove ci sono dentro alcune battute che dopo 25 anni, io ripeto ancora, e me le ricordo ancora, sono entrate quasi nel vocabolario della gente. Non so se avete presente la puntata quella dei pretzel, ad esempio, dove Marge si mette a fare i pretzel. Lì ci sono 200.000 battute che resteranno per sempre nella memoria di tutti. Oppure, che altro, sempre nell'ottava stagione, la puntata dei, quella con Mulder e Skelly, quella di X-Files. Anche lì, c'è Homer che urla di fronte al cartello con scritto Dai, poi viene il colpo di vento e c'è scritto Diet e si mette a urlare ancora più forte. Cioè, questi sono colpi di genio assurdi. Assurdi. E sai che ho detto, siamo a Silent Hill, proprio. Penso che siamo proprio da quelle parti. No, in realtà dovremmo entrare a brevissimo all'interno del Maryland. Andiamo a vedere un attimo. Sì, stiamo quasi per sconfinare in Maryland. Stiamo per incrociare l'Interstate 81. Vedo anche che abbiamo un aereo, questo qua, di fronte a noi. Non molto lontano, peraltro. Se andate a vedere anche qui la cartina, sta diventando veramente, veramente importante il traffico aereo in quest'area. Guardate che roba. Abbiamo un aereo che è sulla nostra stessa rotta, ma in senso opposto. Eh sì, è abbastanza trafficata. Nel senso opposto a noi c'è proprio un... Un giocatore, credo. No, è un British Airways 193. Vediamo dove va. British Airways 193. Da Londra a Dallas Atterraggio previsto a Dallas alle 18.05 Ora locale Quindi sta andando in Texas No, guardate che traffico c'è. Niente, adesso sconfiniamo Passiamo il... Tra pochissimo passiamo il confine del... Della West Virginia Sto controllando Anzi, non è vero, non è vero Ho detto... Ho detto una cretinata Perché siamo già entrati in Virginia in realtà E... L'abbiamo proprio toccato la Virginia Tra pochissimo rientriamo in West Virginia E poi a quel punto Passeremo in Maryland Per... Anche lì per pochissimo Tutto un... Un continuo sconfinare Un continuo sconfinare In Maryland crescono solo muli e checche Questo te lo posso consentire Perché è una citazione Grazie KiwiNabbo Ma non è un viaggio lunghissimo questo... Forse ti riferivi al... Al... Volo da... Londra a Dallas Sì Londra a Dallas è un viaggio abbastanza lungo Ma... Non lunghissimo, eh Non lunghissimo Se volete vedervi viaggi lunghi Prendetevi quelli non stop Che vanno Tipo dal... Dagli Stati Uniti a... A Singapore o cose così Quelli sono lunghi Ok Sono un po' preoccupato Perché qui abbiamo ancora di fronte a noi Più o meno una quarantina di minuti di volo Quindi per le 11.10 dovremmo atterrare La questione... Anzi andiamo anche a cambiare il serbatoio Tac Dicevo la questione È che... È che un po' mi preoccupa È che secondo me Sotto di noi Abbiamo una situazione meteorologica terrificante Dunque Proviamoci Ma che cacchio è? Cioè Questo... Questo Che cos'è sta cosa? No ragazzi Così non si può Così non si può Ragazzi Come si fa? Porco miseria Come si fa? Cioè ragazzi Qua la visibilità è nulla Faccio vedere che la gente ha le case in mezzo al bosco qua Vabbè Torniamo dentro va Torniamo a bordo Del nostro Del nostro aereo No ma è bellissimo È bellissimo vedere le nuvole così Però ragazzi Io qui C'ho anche bisogno di Di arrivare in un aeroporto A un certo punto Se no Vorrei capire Dove andare Eventualmente In quest'area Che cosa ci può essere Di Di atterrabile Vediamo un po' Perché Qui La zona È quella Di Allentown Allentown c'è l'aeroporto? Non lo so Allora eventualmente Allentown c'è l'aeroporto E Probabilmente Ha anche Ha anche Delle cartine Vediamo un po' Allora Credo che Sia Kilo Alfa Bravo Ecco Vado a cercare A vedere se Troviamo Se troviamo Qualcosa Dunque Ma allora Cerchiamo tra le risorse Per piloti Cerchiamo Le carte Allora Pare che ci sia Attenzione Attenzione Lake Valley International Di Allentown Pensilvania Ha Un ILS Sulla pista 1-3 Un ILS Sulla pista 0-6 E poi Due approach R-Nav Sulla pista alternativa Che è la 13-31 Quindi Casomai Casomai Non riuscissimo Ad avere La visibilità Ci spostiamo Su Kilo Alfa Bravo Ecco Mi spiace Perché ci teneva Ad atterrare In mezzo al campo Da golf Ma Di questo passo Mi sa che Il volo Finisce In mezzo Alla Nebbia Vabbè Non è ancora Troppo tardi Non è ancora Troppo tardi Ma Allentown È veramente Attaccato Dove sto andando Si trova Penso 2-3 miglia Più a nord Quindi Mal che vada Faccio l'atterraggio Instrumentale lì Anche se la visibilità È zero Arrivederci Però Voglio aspettare Di arrivare Di arrivare Dove devo arrivare Anche se Come vedete La situation qua Non è affatto buona 150 Miglia Di schifo Di tempo E Grigio 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 Solo grigio Con La distanza 101 miglia Abbiamo Quindi Noi Arriveremo Qui Più o meno Più altre 24 miglia Che se non ricordo male Sono più Verso nord Ancora qua Non si vedono Però E sempre Questi 40 nodi Di vento contro Che però A terra Dovrebbero scendere Allora Mirko Archer La serie Archer Che conosco Conosco Molto bene È Molto carina È una serie Molto carina La trovo Un po' Ripetitiva A dire la verità Con Uno sviluppo Dei personaggi Che è veramente Troppo lento A mio avviso Nel senso che tu puoi Prendere una puntata A caso Di qualunque stagione E bene o male Li trovi sempre Le stesse situazioni È quasi più Una sitcom Che non una Che non una serie Quella di Di Archer E quindi Forse Dato il tema Spy Mi aspettavo Qualcosa Di un pochettino Più Più incisivo Da questo punto Di vista Però È comunque Una serie Molto divertente Con un'ironia Tutta sua Particolare Mi piace Mi piace Abbastanza Ho iniziato Di recentissimamente Scusate per L'italiano Del 2238 Dicevo Ho iniziato Poco Pochi giorni fa La nuova serie animata Dei creatori Di Rick e Morti Che Porca miseria Come si chiama Si chiama Aiuto Vabbè Comunque È su Star Ed è Una serie Che racconta Di Una strana Coppia Di alieni Giunti Sulla terra Con al seguito Due replicanti E una pupa Che dovrebbe A quanto credo Conquistare Cioè Colonizzare Il pianeta terra È abbastanza Assurda Non ho ancora capito Se mi piace Oppure no Me la sto guardando Vediamo un po' Come si evolve Giusto Dubro È vero Hanno tolto La visuale torre Ma Soprattutto La visuale torre Era molto interessante Quando c'era Il replay Purtroppo Il replay Non c'è più In In Flight Simulator Ed è Un vero peccato Ci stanno lavorando Comunque Questo l'hanno detto Hanno detto che Stanno lavorando Alla realizzazione Del sistema Di replay Il caso Jay Simpson Non l'ho visto Ancora Ma Non sono un grande amante Delle Serie crime Ma questo Vorrei capire Per quale motivo I Quei deficienti Del controllo Traffico aereo Hanno autorizzato Questo aereo qua Che Sta Praticamente Raggiungendo La mia altitudine E mi sta volando Contro Si vede che Avranno fatto I loro conti Però Probabilmente Lontano No Non siamo In In rotta Di collisione Credo Che la separazione Dovremmo riuscire Ad averla Però Passerà Veramente Molto vicino Questo non so Se lo vedremo Qualcosa Lo intravediamo Cioè riesco a vedere Persino la luce di coda Vabbè Quindi quanto manca Qua Mancano 29 minuti Che carano Rapidamente Perché In realtà Il vento Ci spinge Forte Sto Sempre A controllare A questo punto Con Il nostro Amico Drone Magari Se Aumento La velocità Del drone Ah L'ho già aumentata Perché Non è così lento Cos'è successo Cos'è successo? Cos'è successo? Ah ok Ok No vabbè È spaventoso Non ne veniamo più fuori Ragazzi Non ne veniamo più fuori Qui la situazione È Allucinante Non so Sarà impossibile Ragazzi A saperlo Rimandavo lo streaming A un altro giorno Oh Intanto Ringrazio anche Mattia Finn Che si è iscritto al canale Ci porta A quota 2010 Quindi Grazie Grazie Quota 2010 follower Non male Grazie mille Per esserti iscritto Niente Ragazzi Non andremo Da nessuna parte Purtroppo Proverei comunque L'avvicinamento Giusto per Per toglierci il brivido Ma Temo che Finirebbe Comunque Malissimo 78 miglia nautica Nel frattempo Perché dovrei 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 A 45 gradi A sinistra No ma Perché Sto seguendo Sto seguendo Correttamente il piano di volo questo è il piano di volo è corretto sono su un'aereovia in questo momento vi dico anche quale sto seguendo la aereovia ce l'ho qui l'aereovia aiuto prendo un attimo il piano di volo che mi ero scaricato peraltro come alternato mi dà addirittura quello di New York un attimo che sta caricando faccio un po' di fatica a recuperare il piano di volo allora dicevamo niente fa fatica veramente a funzionare simbrief questa sera niente non vuole non mi vuole aiutare continua a caricare all'infinito comunque sono sicuro che seguiva correttamente una come si dice una KCRV niente non riesco ad aprirla mi spiace comunque il dicevo K7N8 dovrebbe essere così sono sicuro che questa è un'aereovia non so qual è qual è il numero dovrebbe essere la Quebec 68 credo comunque la mappa è questa questa è la la rotta che che sto seguendo dopo di che come alternato mi da chilopapa indiatango noi come alternato restiamo qui in quest'area questa più o meno è l'idea del del volo è chiaro che se continuo così arrivo a Newark a un certo punto eh Mattia Finna vai a fare quello che vuoi per usare un eufemismo a me onestamente che cazzo me ne frega di quello che vai a fare allora questo è un giocatore su un 747800 Iaio area veramente super trafficata questa si nota proprio anche al di là del del numero di di aerei che che incrociamo che incrociamo cioè di aerei chiaramente presi dal dal traffico in tempo reale che incrociamo in questo luogo è sia un come dire sia un luogo che di per sé ha via vai di aerei piuttosto importante ma è anche l'orario questo quello più giusto perché molti voli arrivano nei pressi di New York proprio a quest'ora ma è anche un luogo che a quanto pare piace molto ai giocatori a parte questo qua PT Iaio non so se voglio andare nello spazio visto che vedo che sta già a livello di volo 400 in salita 410 non so dove vuole andare secondo me sta cercando di fare un volo suborbitale su un 747 ma non so neanche quale sia peraltro la la quota di tangenza di un di un 747 vediamo un po' quota di tangenza 747 quindi no è a livello di volo 450 addirittura ammazza non sapevo che volasse così in alto pensavo fosse intorno ai 400 00 beh mascal io se vuoi ti metto tranquillamente mod non c'è problema assolutamente basta fare così tac si mi danno vettori visuali è impossibile chapeau per la calma saico cioè ho 37 anni che cazzo me ne frega dei ragazzini vai tranquillo le noie sono altre nella vita e comunque li trovate a tutte le età purtroppo i deficienti e anche in luoghi insospettabili ve lo dico io che lavoro in università cioè ne ho viste di tutti i colori quindi ho imparato assolutamente a fregarmene proprio non mi mi scivolano addosso le cose e mascal ti pagherai volentieri se vuoi ti pago in natura chissini guarda ma non ti preoccupare allora saico io ho diciamo ho raggiunto un uno stato quasi ascetico dopo che è iniziato il lockdown perché tu immaginati eh dover affrontare la questione della didattica a distanza con persone che non avevano neanche mai usato in vita loro Microsoft Word per dire perché lo ritenevano troppo tecnologico eh un giorno eh lo dico eh tranquillamente perché è una persona molto simpatica mi chiamano e mi dicono eh devi devi collegare devi darci una mano a collegare a un convegno Quirino Principe ora il professor Quirino Principe eh professore o critico musicale insomma chiamatelo come lo volete credo abbia 90 anni o giù di lì e quindi trovarmi di fronte alla missione impossibile di dover aiutare peraltro un luminare nel suo campo però mi avevano descritto come la cosa più difficile del mondo perché è una persona anziana che può avere difficoltà eccetera quindi mi sono armato di qualsiasi briciolo di pazienza che avessi per affrontare una persona che comunque aveva certamente bisogno di aiuto e in realtà è stato tutto molto semplice perché questa persona era sì anziana era sì un pochettino impacciata con il computer ma era assolutamente disposta ad ascoltare e nel giro di pochi minuti abbiamo risolto tutto è più difficile secondo me molto più difficile quando ti trovi la persona che è convinta di sapere in realtà non sa nulla e non è disposta ad ascoltarti perché è convinta di essere già brava lì è si vede realmente se hai la pazienza perché la persona incapace o che non ha i mezzi o che non ha l'età o che non lo so la affronti perché sai che bene o male troverai troverai delle difficoltà ma le persone che arrivano a volte diciamo nella migliore delle ipotesi con un po' di sicumera nella peggiore delle ipotesi con una spocchia totale e lì fai fatica lì devi veramente inghiottire rospi di continuo eh sì Rewind è così è così purtroppo io peraltro non sono un informatico ma non lavoro nel campo non lavoro negli IT il fatto è che molto spesso mi trattano come se io lavorassi negli IT quindi mi chiamano per delle cose che non c'entrano niente con il mio lavoro cioè una volta un professore mi ha chiamato dicendomi ma per quale motivo la mia pagina sulla Wikipedia non non riporta delle cose corrette e io vorrei dire al professore ma che cazzo ne so io della sua pagina nella Wikipedia vabbè questo questo per dire delle telefonate assurde che ricevo a volte mi faccio delle grandissime risate è molto divertente trattare con certi con certe persone in altri casi devo dire la verità con i professori succede raramente che siano spocchiosi succede più spesso con degli studenti che ti raccontano le balle magari e ti dicono tu gli dici scusi lei sta usando tipo mandiamo una guida dove il primo punto punto uno della guida usare google chrome questi ti chiamano e ti dicono lei sta usando google chrome e loro se sono onesti ti dicono no e a quel punto gli dici guardi devi usare google chrome se non sono onesti e quelli che ti fanno perdere tempo e li ti incazzi e cerchi di non far trasparire che sei incazzato ma sei incazzato ti dicono si si io sto usando google chrome la guida l'ho letta assolutamente in realtà stanno usando safari e safari a dei problemi di compatibilità che non sto qui a descrivervi e quindi ti fanno perdere dieci minuti con tu che cerchi di capire qual è il problema quando in realtà il problema è semplicemente che stanno usando il browser sbagliato tutto qui il mio mod usa firefox si è vero vabbè allora mascal se tu usi firefox problemi non ce ne sono firefox non mi crea nessun problema ultimamente mi sto trovando bene benissimo con edge con edge quello chiaramente basato su chromium come cacchio si chiama mi sto veramente trovando bene brucia molto meno ram di chrome ed è comunque all'interno di quell'ecosistema lì quindi mi trovo veramente benissimo quindi il caro e vecchio bistrattato edge che nella sua versione precedente era orripilante la vedo nera ragazzi qua nerissima nerissima benissimo beh intanto stiamo per superare penso che siamo nei pressi di Harrisburg dovremmo essere o quasi forse un pochettino più a sud di Harrisburg anzi sicuramente più a sud di Harrisburg siamo comunque siamo ufficialmente entrati adesso in in Pennsylvania abbiamo lasciato il Maryland oh cambiato è cambiato l'altimetro andiamo a controllare anche i consumi andiamo a cambiare bene 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 no allora Milano non richiude domani domani siamo in zona arancione e neanche neanche arancione quella scura arancione basta quindi non non chiudiamo domani restiamo restiamo aperti chiaramente la zona arancione prevede che non si può uscire dal comune quindi io andrò a Milano perché non vivo a Milano ma andrò a Milano per lavoro e troverò anche gli studenti che vengono a Milano per motivi di studio ciao Calalu è maschera io dovrei fare un piano e annunciarlo in anticipo per dire quando vado online quello è il problema solo che purtroppo una serie di questo tipo è difficilissima da fare proprio perché rischio di cioè se tipo la prossima puntata dovessi fare la tappa su New York è evidente che non non potrei farla in queste condizioni quindi io dico magari domani facciamo lo streaming andiamo su New York ma non posso fare lo streaming perché il tempo atmosferico non ce lo consente è chiaro che una tappa di questo tipo che è una tappa di transizione vabbè l'abbiamo fatta in IFR buonanotte chi se ne frega abbiamo beccato due ore di grigio può capitare è capitato anche di peggio nelle puntate precedenti soprattutto quando eravamo in Canada quindi d'accordo ci ci vogliamo sopra letteralmente la prossima puntata che prevede appunto alcuni landmark importanti tra cui la città di New York la città di di Philadelphia e Washington DC beh lì non me la sento assolutamente di andare a a volare in queste condizioni eh io scendo ma qui la vedo nera 2500 piedi va bene vertical speed down non sono molto contento di quello che sta per per succedere qua però casomai ripieghiamo casomai ripieghiamo hai visto il flight sim track vero che è molto carino è una una bella mod che hanno fatto per per twitch semplicissima da configurare praticamente fa tutto da sola bisogna solo installare un programmino sul computer e avviarlo ricordarsi di avviarlo prima di far partire lo streaming eh si la trovo veramente una bella idea soprattutto per questo per questa serie dove in qualche modo sapere dove siamo in particolare in queste condizioni che è veramente veramente imbarazzante mamma mia no l'Audi Muscle ce l'abbiamo dietro di solito che ti sta incollata proprio qui dove c'è la coda dell'aereo c'è dietro un tizio con l'Audi di solito che ti fa i fari sì 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 ma ma uè Rewind grazie per per il cheer grazie mille che carina che è l'icona dei cheer grazie davvero e allora calalu le appi di flight simulator e anche di microsoft flight simulator 2020 sono completissime addirittura questa era una figata volevo farlo un po' per robistica si può interfacciare con arduino ed è possibile grazie ai motori ai motorini quelli con i passi regolabili andare a costruire delle come si dice degli indicatori funzionanti cioè grazie alla possibilità di interfacciare le appi di flight simulator con arduino uno può crearsi per esempio che ne so l'altimetro e avere il lo strumento fisico proprio vero davanti e poterlo vedere girare mentre mentre una persona sta volando entra nel gioco è molto molto carino questo c'è un uno youtuber un ragazzo giovanissimo peraltro che si chiama credo pilot bob o qualcosa del genere che sta costruendo un pannello all'interno di cioè con arduino su flight simulator 2020 e fa delle cose pardon su flight simulator x lo ha fatto inizialmente ma funziona anche con 2020 sono sicuro e fa delle cose pazzesche ha costruito un altimetro ha costruito un un indicatore di direzione ha costruito addirittura un 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 v or fa delle cose incredibili guardate guardate la pioggia in questo momento mannaggia niente temo che che non non andrà a finire bene questo questo avvicinamento e vabbè comunque 170 nodi ground speed è pazzesco andiamo anche a controllare il la pressione che sta salendo peraltro quindi magari il tempo migliora boh non lo so ormai non ci spero più 2 gradi centigradi tempo straordinariamente caldo nonostante stiamo arrivando verso l'Atlantico grazie grazie mascal allora rewinde il valentini che fine ha fatto lo sento ancora certo certo assolutamente lo sento ancora il valentini lavora lavora tra di clouds si trova bene quanto ne so sono molto contento per per la carriera che ha scelto certamente è una carriera io lo dico sempre è molto difficile pensare a una carriera nel lungo periodo per quanto riguarda il il mondo della della critica videoludica diciamo così cioè o sei diciamo ai vertici di una società che ha una certa stabilità oppure fai molta fatica dopodiché c'è anche da considerare che comunque è un lavoro nel quale raggiunta una certa un certo livello è molto difficile crescere da un punto di vista professionale quindi può diventare frustrante cioè perlomeno per me è stato così mi ero reso conto che se non avessi cambiato carriera probabilmente oggi sei anni dopo cinque anni dopo sarei ancora nella stessa situazione da un punto di vista professionale poi questo non è vero per tutti ci sono persone che hanno sono cresciute ce ne sono altre che hanno integrato con altri tipi di lavoro ai 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 quanto manca qui alla virata tre miglia nautiche tra poco si vira a sinistra quindi avremo il vento attraverso a quel punto sta anche calando però mano a mano che scendiamo il vento cala diventa più più sopportabile ok qua un pochino si apre ma non ci spero per niente ragazzi vedo il terreno qua vedo il terreno incredibile la svolta peccato che adesso viriamo quindi cambia niente siamo usciti da questa perturbazione oh comincio a vedere un po' di terreno incredibile dai che forse non è impossibile forse non è impossibile mamma mia bruttissimo qua ciao faida ma guarda sal io ne parlavo proprio oggi a pranzo con mia moglie il quando io e Fabrizia ci siamo laureati era il 2010 siamo andati sul mercato in uno dei periodi peggiori per quanto riguarda il mondo del lavoro perché eravamo praticamente a ridosso della crisi e quindi è stato estremamente difficile cioè quando siamo usciti dalla dalla laurea entrambi abbiamo trovato lavoro abbastanza in fretta dopodiché nel giro di un anno un anno e mezzo tutto il mercato è cambiato abbiamo fatto fatica a tenerci di questi lavori però ci siamo anche resi conto ripeto ne parlavamo proprio oggi di come tutta la gavetta che abbiamo fatto prima fosse una gavetta che non contemplava nessuna forma di retribuzione e che oggi paradossalmente è molto più raro nel senso che oggi tendenzialmente gli stage qualcosina ti danno qualcosina che può essere un tozzo di pane un buono pasto qualcosa ti danno quando abbiamo fatto noi non ti davano assolutamente nulla anzi anzi ci smenavi un sacco di soldi non sto dicendo che la vita per gli stagisti sia facile adesso tutt'altro però mi rendo conto che qualcosina cioè nel giro dei dieci anni qualcosina è migliorato da questo punto di vista ragazzi è terrificante speriamo che migliori cioè abbiamo 34 nodi di vento ma vi rendete conto a 2500 piedi vado anche a regolare nel frattempo mamma mia buonasera Luca si parla un po' di tutto questa sera abbiamo veramente trattato ogni tipo di argomento guardate si vede il sole è incredibile abbiamo veramente trattato ogni tipo di argomento e in questo momento siamo in piena fase deprimente perché come puoi vedere abbiamo grosse difficoltà a individuare la pista di atterraggio credo che dovremo ripiegare su un altro aeroporto se continua così ma mascal perché dici che ho allungato allora il in realtà io ho seguito il l'aerovia che mi era stata consigliata in fase di pianificazione è chiaro che se facevo un diretto ma non è che ho allungato molto ho allungato di penso 20 miglia rispetto al diretto ok ripeto questo è il questa è io sono partito da qui e devo andare qui non è che ho allungato di un botto veramente avrò allungato di 20 30 miglia non di più rispetto a un diretto si kiwi non voglio andare su filadelfia adesso piuttosto faccio un atterraggio in condizioni di visibilità zero con un ils è bellissimo comunque qua queste colline in mezzo alla alla nebbia abbiamo più o meno 7 minuti all'arrivo anche se probabilmente saranno un po' di più perché il vento contro è veramente forte 35 36 nodi vabbè mascal vfr come faccio a farlo in queste condizioni mica mi posso inventare di vedere il terreno proprio non si vede una mazza qua ragazzi cioè guardate guardate il meteo è imbarazzante a parte faccio vedere questo airbus che si trova a 56 piedi sotto il livello del mare quindi credo che stia in questo momento a dare da mangiare ai pesci sì è bello è molto bello mi piace mi piace tantissimo il fatto che comunque c'è tanta tanta varietà in flight simulator andiamo a vedere so che mi verrà la depressione per quello che sto per fare ma vediamo che cosa dice il display porca miseria ragazzi 14 milia nautiche andiamo ad atterrare più o meno in quest'area qua quindi aiuto 14 qua cos'è? cos'è? cosa sono queste cose? ma è giusto che ci siano queste cose? sono delettore di raffreddamento tipo di centrai nucleari e roba del genere è abbastanza inquietante sta cosa porca miseria è super inquietante ma infatti è impressionante com'è possibile che siano così alte si vede che lo sono veramente vedete un po' dove sono in questo momento sono 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 limerick limerick si chiama al posto vedete un po' se ci sono delle torri delle torri di raffreddamento così alte no col cazzo che ho la pista in vista va bene proviamoci ma non sono in finale che cacchio dici no vabbè ma qui è impossibile è impossibile qua non posso assolutamente tentare il neanche neanche provarci l'avvicinamento qui non esiste non si vede assolutamente nulla e vabbè proviamo proviamo a cambiare l'aeroporto direi chilo alfa bravo ecco qua a meno che non si crei questo questo reduco un po' la velocità giusto per no ma è impossibile qua ragazzi qua c'è una una leggera apertura però non so se riusciamo a vederlo l'aeroporto questo è l'aeroporto dove devo andare è qua ma è impossibile riuscire a vederlo vabbè io tolgo il pilota automatico vediamo che succede ma ho i miei dubbi ragazzi so che mi pentirò di quello che sto per fare aiuto credo sia impossibile atterrare ma vediamo eh mascal dai e provaci io ci provo ma secondo me è veramente veramente impossibile anche perché poi qualcuno mi cerca l'orientamento della pista per favore Valley Golf e Butter Valley Golf Butter Valley Golf Port che è 7 november bravo visto che da qui non riesco a vederla sì ma la volta scorsa a Mirko avevamo gli strumenti che ci aiutavano qua ci aiutano soltanto i nostri occhi 16-34 grazie quindi 3-4 è esattamente qua dovrei vederla proprio davanti a me la pista tra poco ragazzi finisce male qua finisce malissimo ve lo dico no uh guardala qua la pista porca miseria no qua ci schiantiamo ragazzi è troppo stretta via 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 go around go around mamma mia è impossibile non ce la possiamo fare è troppo complicato ragazzi io non ci non ci provo è assolutamente impossibile allora torniamo sui annunciamo il go around intanto l'avete vista eh ragazzi era impossibile era impossibile questo avvicinamento in queste condizioni va bene tengo un attimo l'altitudine la impostiamo sui 2005 e 5 e accendiamo il pilota automatico e a questo punto andiamo a impostare piano di volo un diretto no anzi aiuto com'è che lo mettiamo qua clear exit flight plan andiamo a cambiare direttamente il il piano di volo è a prendere chilo alfa bravo ecco guardate che turbolenza chilo alfa bravo ecco enter e a questo punto vediamo di andare a cambiare non posso eliminarlo questo clear yes ottimo e andiamo immediatamente a tornare su new york center e non mi cambia perché non mi cambia ah perché devo disattivare il comando no io voglio cambiare tornare su cabe no adesso vado ad annullare anzi vado a chiedere l'autorizzazione IFR benissimo benissimo andiamo a cambiare ci facciamo dare un avvicinamento che sia sensato 040 andiamo a farci aiutare ci ha chiesto di salire a 11.000 vabbè saliamo a 11.000 perderemo un po' di tempo mi sa per quale motivo il nostro copilota non ci sta aiutando adesso ci dai 3.000 infatti qui è semplicemente impazzito andiamo a regolare questo ci ha dato i 3.000 adesso siamo un po' incasinati perché il nostro copilota non ci sta aiutando in nessun modo andiamo a togliere qua e intanto vediamo saluto e ringrazio anche l'ampi salvio i ampi salvio non riesco a capire se è una L o se è una I sì ma devo caricarlo l'avvicinamento qua allora vediamo un po' menu procedure approach ils6 ok andiamo a caricarlo a questo punto attiva top si ma clear to land è sbagliato cioè qui sono altissimo ragazzi proviamo a picchiare vediamo un po' che cosa succede ma io provo a buttarmi giù vediamo che succede ma non sì ma dov'è cioè ragazzi è sbagliatissimo qua niente 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 torniamo torniamo a a impostare l'altitudine gestita e questa volta ci facciamo dare dei vettori perché di qua non ne usciamo di sicuro allora ragazzi mi sono completamente perso mancato avvicinamento spero che ci vieno dei vettori che abbiano un minimo di senso perché così non ne veniamo non ne veniamo a capo allora pista 13 ci ha dato allora abbiamo detto pista 13 via esis ok quindi andiamo ad aprirlo qui nel piano di volo procedura select approach abbiamo detto ilspista 13 eccola qui via marca miseria non la scelta porca ilspista 13 inter via esis e adesso andiamo ad attivarla attiva e ci ha autorizzato per esis esis è esattamente dalla parte opposta quindi andiamo a vedere dove è esis ma sarà di qua ok veniamo a sinistra se no qua non ne veniamo più a capo facciamoci dare un vettore vediamo se riusciamo a dargli anche un diretto su esis 285 intanto 285 confermiamo ok vediamo se riesco anche a impostarli un diretto per esis direct to allora h a a h e s as esis enter perfetto quindi in teoria adesso non me l'ha neanche impostato perché non me l'ha impostato in diretto attiva ma ragazzi è assurdo è tutto incasinato qua vabbè proviamoci 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 sì ma esis è lontanissimo si mi ha preso un esis che non esiste non esiste questa cosa aspetta allora andiamo andiamo la cosa che non capisco qui in questo in questo sistema è che non non sono in grado di cancellare il il piano di volo quindi quello che farò visto che non riesco in nessun modo a cancellarlo è aspettare che il lago dell'avvicinamento cioè questo si sposti verso il centro a quel punto io farò una virata di 180 gradi per puntare verso la pista 1-3 ed è l'unica cosa che mi viene in mente di fare a questo punto non ho grosse alternative quindi aspettiamo che il nostro amico qui superi l'aeroporto ci vorrà ancora un pochettino siamo comunque a 3000 3000 piedi di altitudine e li teniamo è veramente l'unica cosa che mi viene in mente di fare non ho grosse grosse alternative 2700 per me via 2-9 2-8 2-7 infatti è quello che faccio Faida cioè ignoro completamente il Garmin e mi baso esclusivamente sul sul nostro cosa è successo ah ok dicevo mi baso esclusivamente su su quello che vedo qui aspetto che di trovarmi a una distanza sufficiente dal per tentare l'avvicinamento secondo me sul punto Cavru ci fa fare ci fa fare il il 180 gradi in questo momento stiamo volando comunque con il vento contro completamente stiamo contro vento ecco vedete che l'ago adesso l'indicatore il rombo verde sta iniziando a spostarsi verso il centro quando arriverà più o meno qui magari lo faccio anche un pochettino superare farò l'anello verso sinistra quindi di virata verso sinistra sotto vento per rimettermi sul finale e a quel punto passerò il pilota automatico dalla modalità HDG alla modalità Approach un po' fermiamo il passaggio contattiamo la torre perfetto allora ci hanno autorizzato ad agganciare l'ILS quindi adesso io faccio così premo Approach vediamo che succede teoricamente se io faccio la virata verso sinistra per prua 1 3 0 dovrebbe prendermi l'ILS giusto? diciamo anche un pochettino meno di 1 3 0 la possiamo portare anche a 1 a 1 e 15 così dovrebbe agganciare il localizzatore rallento rallento sto rallentando niente non riesce a prendere per qualche motivo non riesce a prendere l'Approach non so per quale ragione io non riesco a capire per quale ragione non si sta comportando correttamente il vediamo ragazzi è impossibile atterrare in queste condizioni poi soprattutto se non vuole funzionare il per quale motivo non funziona cioè è assurdo sono bassissimo ragazzi sono troppo basso lo farò completamente strumentale a questo punto cosa devo fare dove è la mia pedaliera qua aiuto eccolo le luci di atterraggio ce le abbiamo che io ce la mando in buona ragazzi non prometto niente però porca miseria mamma mia ragazzi è stato un arrivo terrificante pure il pilota automatico che bugga e che non mi prende il sentiero di discesa e mi tocca farlo guardando gli strumenti il vento qua poi è molto più calmo proprio non c'è paragone rispetto a primo un po' lungo forse però ci adagiamo al suolo piano piano ecco fatto ecco fatto vediamo di uscire subito eccoci qua non è stato piacevole ma in qualche modo siamo riusciti ad atterrare mamma mia confermiamo adesso si è ripreso lo stronzo il mio copilota e l'abbiamo siamo riusciti ad atterrare peraltro è buio adesso non so come mai è già tramontato il sole vabbè tempo orribile sarebbe stato fighissimo riuscire ad atterrare in mezzo agli alberi in quel posto assurdo che avete visto prima ma vabbè quantomeno ci abbiamo provato è stato è stato molto emozionante via ci fa tornare indietro ci fa rientrare in pista guardate il sole che tramonta davanti a noi adesso c'è una macchinina se la smette di farmi continuamente frenare avanti indietro avanti indietro comunque non si comporta correttamente il Garmin veramente un bel po' di problemi nel frattempo si è quasi fatta mezzanotte forse è il caso di andare a dormire visto che domani mi devo alzare prestissimo allora ok ok un po' più avanti ok perfetto via va bene così allora andiamo a spegnere come sempre l'alternatore sperando che ci abbia registrato correttamente l'atterraggio questa volta sì l'ha registrato e niente durato più del dovuto causa problemi grossissimi però è stato piuttosto avventuroso questa volta avevo previsto un atterraggio avventuroso ed è diventato avventuroso per altri motivi ma va bene così insomma ci siamo quasi siamo quasi a New York siamo quasi arrivati sull'oceano abbiamo fatto un tour interno degli Stati Uniti che è durato praticamente due mesi e mezzo sono veramente molto contento 36 episodi dopo ritorniamo a vedere l'oceano Gennarino sempre presente certo Luca insomma vabbè è stato impegnativo questa volta giusto Mascal tappa tosta tappa impegnativa è stato comunque molto divertente quindi come sempre come 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 chiudo tutte le volte è stato veramente un piacere per me volare con voi questa sera ringrazio anche chi si iscrive qui in chiusura cioè Fischedo che ci porta a quota 2010 dopodiché Toscani Luca 92 2011 ormai si sale si sale quindi grazie a tutti quelli che si sono iscritti al canale questa sera e niente l'appuntamento è credo durante la prossima settimana non vi so ancora dire la data aspettiamo che cambi un pochettino il tempo qui sulla East Coast altrimenti New York non lo vediamo vedremo soltanto un sacco di nebbia con qualche luce che viene fuori e appena possibile insomma torneremo live qui sul nostro canale con il giro del mondo a bordo di un Cirrus SR22 buonanotte a tutti ciao ciao e saluto Rino Chavez dall'oltretomba che si è iscritto proprio mentre stavo chiudendo a l'un a l'un Grazie a tutti.